Il giorno e la storia. Oggi è il 13 dicembre. 1992, Mogadiscio. Arriva il primo contingente italiano della missione umanitaria Restore Hope. 1294, il gran rifiuto di Celestino V. 1836, un incendio distrugge il teatro La Fenice di Venezia. Commenta il fatto del giorno Maurizio Molinari, direttore della Stampa. Oggi ho scelto di parlarvi del golpe di Jaruzenski in Polonia nel 1981. Grazie a tutti.